Agenda cartacea o Google Calendar? Ne parliamo in questo video! Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo tra l'altro di organizzazione e gestione del tempo. Siamo ormai alla fine dell'anno, quindi è il momento in cui si comincia a pianificare e si comincia a pensare cosa utilizzare per organizzare il tempo, meglio l'agenda o un Google Calendar o insomma comunque un programma, un software online. In questo video ti spiegherò che cosa faccio io per organizzarmi al meglio, ma prima di cominciare mi raccomando se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video e se invece mi stai seguendo dal podcast, inserisci il podcast ai tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Come dicevamo, per organizzare il tempo, avere un mezzo di organizzazione è sicuramente molto importante, infatti è difficile gestire al meglio il proprio tempo e riuscire a portare avanti i propri obiettivi, i propri compiti se non ci si organizza, quindi riuscire a organizzare il tempo, pianificare è qualcosa di molto importante. Può essere fatto in modo diverso, ma in ogni caso ognuno deve avere un metodo di organizzazione e solitamente a fronte del proprio metodo di organizzazione ci deve essere un supporto per poterlo fare. La domanda è cosa è meglio utilizzare? Un supporto elettronico, un software come Google Calendar per esempio o la classica agenda? Beh, adesso in questo video ti racconterò che cosa faccio io di solito. Io utilizzo due sistemi elettronici, come dicevo, e l'agenda cartacea. I sistemi elettronici che utilizzo sono Trello, che è un software di project management gratuito, e Google Calendar. Per quale motivo ne utilizzo due e non uno? Allora, Google Calendar lo uso principalmente per gestire gli appuntamenti e avere dei reminder. Perché comunque, per quanto uno possa segnarsi su Trello o sull'agenda cartacea l'appuntamento, capita che se magari sia molto presi o molto impegnati in qualche attività, uno l'appuntamento se lo possa scordare. Quindi avere su Google Calendar l'alert che mi arriva mezz'ora prima, un'ora prima, a seconda di quanto tempo mi serve per andare all'appuntamento. E che mi ricorda che c'è qualcosa che devo fare, è davvero molto importante. Lo posso tenere sul telefonino, quindi c'è sempre con me, e tra l'altro è l'unico tono che io tengo sul telefonino, perché tutte le altre notifiche le ho tolte, e quindi è l'unica cosa che mi suona. E quando mi suona vuol dire, ah, c'è qualcosa di importante. Ed è però in realtà uno dei pochi modi in cui uso Google Calendar, perché per il resto preferisco utilizzare Trello. Trello è un software, come dicevo, di project management. Ho fatto un video, a proposito, che trovi qua sotto e che ti invito ad andare a vedere se vuoi saperne di più, e che è molto, molto comodo, perché mi permette di avere da una parte l'elenco di tutte le cose che devo fare, ma proprio tutte, cioè tutte quelle che sono importanti, perché naturalmente non è che ci metto dentro le mie routine normali, piuttosto che cose come lavarmi i denti, però se lavoro su un progetto o delle cose importanti da fare, le metto tutte. Anche per esempio sul lavoro, per quelli che sono i task del lavoro, io ho una cartella di Trello apposta dove li metto e li vado a guardare. Questo mi permette da una parte di svuotare la mente, avere tutto quello che devo fare, le idee, quello che mi viene in mente in un posto specifico. E poi mi permette di utilizzarlo a mio piacimento, a secondo delle necessità, perché una volta che si è messo qualcosa su Trello, si possono mettere i sottotaschi che la compongono, si può copiare quel task in altre bacheche, e quindi magari una cosa che ti è venuta in mente, che è relativa a un progetto specifico, la metti sulla bacheca generale e poi dopo la sposti sulla bacheca specifica. E un'altra cosa molto bella è che si può mettere un'altra discadenza in modo che poi con la visione calendario si vede tutto come se fosse un calendario e quindi si ha un'idea a grandi linee di quello che può essere la tua giornata o la tua settimana o il tuo mese. E quindi da un punto di vista di organizzazione del tempo e di pianificazione per me è molto molto utile. Tu mi dirai, e allora a quel punto l'agenda cosa ti serve? Allora, a parte che come dicevo per me l'agenda è qualcosa di molto più personale, io ho l'agenda cartacea per due motivi. Il primo è che voglio evitare di stare troppo troppo su telefono e computer e ne passo già tantissimo tempo perché per lavoro passo più di otto ore sul tele e sul computer, poi ci aggiungiamo il tempo sul telefono quindi davvero tanto. Quindi soprattutto la sera quando io mi metto lì e pianifico cosa farò il giorno dopo, cioè decido quali sono le attività che voglio assolutamente fare il giorno dopo, avere l'agenda cartacea è molto importante perché mi permette di mettermi sul divano dopo mangiato, di pensare a quello che devo fare e di segnarmelo nel giorno specifico e in questa maniera non soltanto non devo stare col telefono, ma posso anche insegnare a mia figlia che ha quasi dieci anni che si può fare altro che stare sul telefono perché è un'età in cui comincia a chiedermi di avere il telefonino e io sinceramente non trovo che sia corretto. Quindi l'agenda cartacea mi permette di fare un detox da quello che è il, diciamo così, l'utilizzo massivo di telefono e computer. Un altro motivo è che l'agenda cartacea come questa, questa l'ho presa da Tiger, l'ho pagata a 5 euro quindi è una cifra diciamo così abbastanza ragionevole, è un'agenda giornaliera e questa non è una pubblicità di Tiger quindi però per far capire un'agenda giornaliera quindi c'è il mese e poi i singoli giorni e mi permette quindi giorno per giorno di segnarmi le cose importanti e non soltanto le cose da fare perché solitamente io cosa faccio? La sera mi metto lì e dico ok domani cosa devo fare e mi segno le cose principali che voglio fare sia sul lavoro quello da dipendente che per il progetto. Non le segno tutte e tutte, segno per macro categorie, solitamente ne segno 3 o 4 sul lavoro diciamo da dipendente e 3 sul mio lavoro perché altrimenti diventano troppi. Tanto poi male che vada ho la mia lista di cose da fare quindi se una volta che ho fatto quello mi rimane altro tempo vado a pescare dalla lista sul computer. Poi quell'agenda cartacea mi permette di scrignarmi anche le cose importanti tipo che giorno del ciclo è, come mi sento da un punto di vista energetico, se ho fatto, se ho avuto particolari, se ho fatto particolari routine o se ho avuto magari qualche fastidio o qualcosa che mi ha fatto arrabbiare e a fine giornata mi permette anche di segnare le mie riflessioni sulla giornata piuttosto che di usarlo come diario della gratitudine. Prima utilizzavo diversi metodi, diversi tool, perché mi piaceva avere che so appunto il diario della gratitudine quindi il quadernino apposta e le cose distinte. Poi ho capito che in realtà un unico mezzo è la cosa migliore perché in questa maniera in un unico posto io ho tutto quello che mi serve. La compro sempre negli ultimi anni ad anelli, indipendentemente dalla marca, perché io trovo comodissime il fatto che la posso girare e rimettere così. Io quelle normali che devi aprire e tenerle in questa maniera mi irritano, non ci posso fare, è un problema mio personale probabilmente, le trovo davvero molto comode. giornaliera perché altrimenti non ci sta niente, nel senso che troppo grande non mi piace, quindi un formato A4, A5 è un formato che mi piace e oltretutto, adesso non ho ancora fatto la vision board dell'anno ma anche se è diciamo così non particolarmente carina, poi faccio la mia vision board dell'anno e la metto qua e quindi diventa qualcosa che ogni giorno quando la apri mi ricorda quali sono i miei obiettivi. Quindi è qualcosa di facilmente personalizzabile che posso utilizzare un postile bullet journal e che però mi permette di essere organizzata senza diciamo così avere quell'effetto di Google Calendar o comunque di Trello, insomma dei software che è meno personale. Io con questo metodo mi trovo molto bene perché mi rendo conto che riesco davvero da una parte essere molto produttiva sulla parte diciamo così più, non vorrei dire meccanica, ma insomma quella più lavorativa, quella più progettuale utilizzando Trello e da un'altra parte molto più intuitiva, molto più profonda utilizzando l'agenda. È un metodo, è il mio metodo e magari non va bene per tutti però è qualcosa che mi aiuta tantissimo a essere produttiva, essere focalizzata e a pianificare in maniera consapevole quindi non semplicemente seguendo delle regole specifiche ma adattando poi la pianificazione alla mia vita personale e alle mie esigenze. A questo proposito io ho fatto una masterclass gratuita dove spiego qual è il mio metodo di pianificazione dell'anno nuovo per riuscire a raggiungere un obiettivo e te la dico qua sotto se vuoi andare a vederla. Spero che questo video piccolo su quale mezzo utilizzare per pianificare meglio l'anno prossimo ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Nel caso mi raccomando metti un like per sostenere il video o inoltre allora che poi si possa trovarlo utile. Se non l'hai ancora fatto ma questi argomenti ti interessano ti invito a iscriverti al canale e cliccare sulla campanella in modo da non perdere notifiche nei prossimi video. Ciao e alla prossima!